Ora si registrerà la conferenza. Allora, il tema di oggi è un tema al quale siamo particolarmente legati perché non tratta solo ed esclusivamente strumenti, strategie logiche, operative, ma anche aspetti come definito di carattere olistico, olistico, olos, omnicomprensivo, dove comunque la condizione e lo stato di benessere all'interno di una struttura aziendale diventa il principale motore sul quale andare a sviluppare l'innovazione. Quindi io partirei subito e partirei subito con la nostra presentazione dove non a caso il primo aspetto che vogliamo considerare sono proprio gli effetti del lockdown. Questo lockdown ha creato due condizioni diciamo particolari che si muovono su due dinamiche molto diverse e che hanno avuto anche un effetto molto importante. Allora, diciamo che la prima parte è legata alla capitalizzazione dell'esperienza, cioè quindi diciamo che ci sono persone che hanno sviluppato in questo periodo una consapevolezza riguardo a la condizione in cui stavano lavorando, la condizione della loro vita, quindi hanno approfittato di questo lockdown come un'opportunità di crescita, quindi meditare sul passato e pianificare il futuro. Allora, parto da un presupposto. Queste informazioni arrivano da cosa? Io mi occupo di consulenza da vent'anni e in questo momento sto operando in aziende che, come la vostra o come le vostre esperienze, hanno comunque subito l'effetto del covid e questo primo effetto ovviamente al di là della produzione va ad impattare fortemente su quelle che sono le relazioni sociali e le relazioni tra team. Quindi, per chi in questo momento ha affrontato questa attività, questa crisi in una condizione di capitalizzazione, quindi che ha dedicato del tempo per capire a che punto era e che cosa intende fare in futuro, sicuramente è una persona che all'interno dell'organizzazione avrà qualcosa da dare, ma dall'altra parte, raffrontandosi anche con un'organizzazione che in questo momento, magari a livello prestazionale, questo lo vedremo poi anche nelle slide successive, non riesce a rispondere a quello che è la propria necessità da un punto di vista di soddisfazione personale, ma anche professionale, sicuramente con il rientro e quindi con questa fase 2 o una fase 3, rischierà di incorrere in problemi e l'azienda stessa potrà incorrere in determinati problemi. L'altro aspetto lo vediamo invece nel chi ha subito l'esperienza. Subire l'esperienza che cosa significa? Somatizzare l'ansia. Diciamo che io proprio la settimana scorsa ho partecipato a un piccolo convegno in Bicocca, dove proprio si andavano ad analizzare questi due aspetti, ma nello specifico come chi oggi sta somatizzando l'ansia, innanzitutto stiamo parlando di un'ansia pregressa, quindi in soddisfazione su quello che era lo stato lavorativo precedente, la posizione che ricopriva all'interno del team, e quindi che cosa è successo? Che al posto di entrare in uno stato di autoanalisi, ha iniziato a somatizzare, quindi ha iniziato a accentuare quelli che erano degli stati di carattere depressivo, e questo ovviamente l'ha messo in uno stato ancora di più di chiusura, considerando anche che l'elemento più impattante sul quale si va a ragionare in termini di risultato è proprio la paura del futuro. La paura del futuro diventa l'elemento focale sul quale subire l'esperienza poi da la sua massima espressione. Questo che cosa vuol dire? Paura del futuro vuol dire non solo rientrare all'interno di una configurazione aziendale, che magari già di per sé non brillava di luce propria, da un punto di vista di organizzazione, da un punto di vista di relazione, ma anche paura di che cosa gli aspetta il futuro alla luce già di una condizione somatizzata, complessa, e quindi dove lo stato d'ansia andrà a precludere, non è come dire, vabbè, abbiamo fatto due mesi di ferie, un mese di ferie, abbiamo messo in congelatore tutte quelle che potevano essere problematiche e adesso le tiriamo fuori. No, quello che oggi si sta presentando, e di casi ce ne sono parecchi, è che quello che prima avevo, diciamo, sopportava, nel momento in cui è iniziato a somatizzarlo e quindi è diventato una condizione di paura e di ansia, paura del futuro e ansia per quello che stava accadendo, nel momento in cui poi ritorno all'interno dell'organizzazione, diventa molto più pesante, tanto è vero che in diverse organizzazioni che sono state prese come esame, sono per esempio arrivate, al contrario di quello che possono essere le aspettative, per esempio delle richieste di licenziamento, di riposizionamento all'interno dell'organizzazione. Quindi entriamo un attimino alla luce di questi due aspetti, di questi due effetti e quindi ovviamente come anticipava Licia, poi potete tranquillamente le mettere le domande in chat, postare le domande in chat e poi man mano andremo a rispondere. Però andiamo un attimino ad entrare più nel concetto di team efficacia. Allora, prima di tutto una grande impresa non si compie mai da soli. Che cosa significa? Che come vedremo poi anche negli aspetti organizzativi, che cosa accade? Che oggi la maggior parte delle organizzazioni, pure chiamandosi organizzazioni, come dicevo prima, tantissime non brillano di luce propria. Quindi che cosa succede? Che la maggior parte delle organizzazioni nascono e crescono con un effetto di stratificazione, quindi per stratificazione si intende processi, attività, ruoli, responsabilità che non sono state sviluppate a tavolino, ma col passare degli anni sono state date per acquisite e quindi questo che cosa comporta? Che nel momento in cui io non ho più la relazione diretta con il mio team, da un punto di vista relazionale, ciò che davo per scontato non è poi più così scontato. Ma la vera domanda è, come può essere inteso un team per essere veramente efficace? Ovvero un team per essere efficace, quali caratteristiche deve avere? Allora, prima di tutto avere chiare visione mission. Questo è già di base, allora visione è una visione, una visione, adesso dico anche cose banali, però preferisco magari dare una breve introduzione, perché sono parole che scontate, però che vi posso dire che dal campione di un centinaio di aziende che abbiamo analizzato negli ultimi tre anni, visione e mission sono più un'indicazione, più che qualcosa di depositato e condiviso. Quindi visione è una visione di carattere, si può dire anche romantico, nel senso che noi vogliamo diventare la più grande realtà e io mi, cioè la vision per esempio di Bill Gates era fra vent'anni in ogni casa ci sarà un Windows, questa era la sua vision. La mission non è nient'altro che la mappa per trasformare la vision in qualcosa di concreto. Il riconoscere chi fa cosa? Riconoscere non vuol dire solo ed esclusivamente tu fai questo, ma vuol dire anche dargli delle formule di riconoscimento che permettono anche di valutare la qualità di quello che sta facendo, anche per una questione di autostima. Sviluppare le skill personali, quindi un team efficace è un team che permette ad ogni persona, noi grazie a Dio siamo, ognuno di noi è diverso, grazie a Dio lo sviluppo delle skill personali significa metterne le condizioni la persona, non di eseguire un compito, perché quel compito si basa solo ed esclusivamente su effetto A, B e C, ma permettere anche a questa persona di esprimere quelle che sono le sue peculiarità personali e poterle applicare all'interno del ruolo. Questo a volte può anche mettere nelle condizioni l'organizzazione di dire probabilmente questa persona non è il ruolo giusto. condividere la responsabilità, anche ecco la parola responsabilità ha una caratteristica non banale, cioè perché a livello proprio pratico responsabilità significa abilità a dare risposte. Questo che cosa significa? Che spesso all'interno delle organizzazioni ci sono dei responsabili e degli operatori, spesso gli operatori, i responsabili si mentano perché gli operatori non sono abbastanza responsabili, ma i responsabili è anche vero che non distribuiscono in maniera omogenea quella che è la responsabilità. Abilità di dare risposta significa che se io occupo un ruolo e in quel ruolo sto sviluppando una serie di attività io devo poter rispondere di quello che sto facendo all'interno di quel ruolo. Detto questo, efficacia del team. Quindi, efficacia del team vuol dire che se io garantisco tutti gli aspetti che abbiamo visto finora il team funziona. Differentemente, il primo aspetto sul quale vado a pesare è l'aspetto di relazione e quindi interpersonale. Ovviamente questo impatta tantissimo sulle attività e torniamo alla condizione che stiamo vivendo in questo momento. Se io non ho una buona dinamica che quindi se io non ho garanzia che tutti questi aspetti non sono presenti e consolidati all'interno dell'azienda anche solo uno di questi se manca uno di questi significa che nel momento in cui io sono obbligato come in questo caso e sicuramente nel futuro nel prossimo futuro ne vedremo delle belle di rivedere la mia attività la mia configurazione ciò che in questo momento intendo come operatività a distanza o in parte cioè quindi non totalmente a distanza ma pensiamo solamente a tutto l'extra produttivo che cosa succede? che la condizione è questa cioè mi trovo più nel subire l'effetto quello che dicevamo prima cioè mi trovo più a subire un effetto piuttosto che vederlo in termini positivi e poter ovviamente uscire in termini di resilienti quindi potendo trovare dietro a una difficoltà latente come quella che stiamo vivendo una soluzione perché se il team non mi garantisce quegli aspetti difficilmente riuscirò a trovare una via d'uscita per conto mio ma perché? perché stiamo parlando di tanti individui che fanno tante cose e non di un team quindi detto questo vediamo un attimino di ripianificare il concetto di impresa questo in che modo? innanzitutto devo partire dal presupposto che in un momento come questo dove i valori personali sono balzati in testa tutto ma perché? perché in questo periodo le nostre priorità di vita sono cambiate totalmente molti di noi hanno perso delle persone care quindi che cosa vuol dire? che se io non ripenso la mia impresa in termini di mission e vision quindi un percorso di analisi dei valori delle azioni ma soprattutto non le condivido molto probabilmente le persone noi stessi che siamo stati toccati profondamente da questa esperienza rischiamo di dire no io oggi voglio vivere la mia vita diversamente perché non posso più vivere per la mera paga questo vi sto dicendo questo perché già questi dati vengono rilevati con una certa sono dati importanti cioè dove come dicevo prima ci sono persone che stanno facendo delle scelte di vita diverse cioè imprese che si trovano nella condizione di dire non possiamo più contare su queste persone perché queste persone stanno facendo delle scelte professionali diverse quindi è fondamentale ripartire da lì ma non solamente dirselo ma anche condividerlo soprattutto se oggi non possiamo lavorare gomito a gomito quindi sono i valori che ci tengono uniti ok altro aspetto è il flusso di comunicazione di processi e qua ce ne parlerà benissimo sicuramente Andrea quindi flusso di comunicazione e processi vuol dire che bisogna innanzitutto rivalutare i bisogni in termini di processi staff e strumenti ovvero quello che facevo prima come lo facevo prima aveva una caratteristica non banale che eravamo tutti qui e chi più chi meno aveva abbastanza le idee chiare è ovvio che quella abbastanza e torniamo agli elementi che fanno l'impresa che abbiamo visto prima se non sono così chiari a questo punto il rischio è che vado a subire quello che sta accadendo lascio la palla a te Andrea per poi riprendere alla luce delle considerazioni che poi farai sì grazie provo a condividere lo schermo dovresti poter muovere anche le slide no ma guarda che dovresti poter muovere anche le slide le tue sì eh no perché ho condiviso le mie sì no no non ci siamo accordati sul processo vedi funziona proprio così non ci siamo accordati sul processo e quindi il processo non dico che non funziona ma funziona scusate che allora vado avanti con le mie cosa dici come vuoi ok hai già preso il sì perfetto allora due parole su chi sono sono Andrea Pasotti in CSMT sono responsabile del centro di competenza che si chiama innovazione gestionale di management che in buona sostanza coincide con l'ingegneria gestionale e tutte le sue applicazioni principalmente rivolte diciamo alla digitalizzazione ultimamente e che si basano comunque sull'interesse del miglioramento di processo appunto quindi mi collego a quello che diceva Alfredo poco fa sulla comunicazione adesso non le leggo in dettaglio mi supporto su qualche slide anch'io però insomma ho collezionato queste queste provocazioni che in realtà non sono neanche provocazioni ne sono anche per qualcuno anche per me ma anche per qualcuno di voi esperienza vissuta sul fatto che ci si trova magari qualche volta inseriti in eventi in passaggi di un processo senza capirne la ragione e non capendone magari come vedete la prima non so perché ma ci siamo incontrati già due mesi eccoci qua di nuovo nessuno ha fatto niente perché non è chiaro il meccanismo oppure a cosa serve la riunione le riunioni sono perdite di tempo dobbiamo lavorare ecco questo è tutto diciamo vita vissuta e in quest'epoca diciamo ritorna a me è successo così alla mente questa riflessione sul fatto che non non è chiaro non è esplicito anche se magari il lavoro quotidiano non è perché tutti sappiamo che lavoro lo facciamo però i processi si evolvono perché magari si evolve nel mercato o l'azienda sceglie con il suo vero c'è di andare in una certa direzione e non ci si muove in modo sincronizzato per cui ci sono appunto queste fasi di dubbio di stasi di attesa che non sono per nulla chiarificatori e quindi bisogna e probabilmente questa fase di lockdown ci ha spornato ci ha fatto riflettere avendo improvvisamente guadagnato più tempo questo non è vero per tutti però nella media sì abbiamo tutti più tempo e chissà chi di noi si è messo a rileggere i propri processi guardando appunto al futuro come diceva Alfredo per fermarsi adesso a scontare per chi non ha subito diciamo anche un isolamento forzato quindi chi ha comunque mantenuto i contatti magari ha riflettuto su cosa avrebbe potuto cambiare sfruttando il tempo cosa potrà cambiare sfruttando il tempo che abbiamo a disposizione che di solito non c'è perché comunque diciamo la nostra indole soprattutto anche di Bresciani lo dico sempre è quella di focalizzarci sul nostro lavoro che vuol dire sulla mansione sulla specifica attività guardando troppo troppo di rado diciamo il processo in generale quindi i passaggi che ci sono prima e dopo la nostra attività perché per l'amore del lavoro per questa diciamo positiva anche valore morale che abbiamo dobbiamo lavorare in produzione si devo fare i pezzi si dice non ho tempo di fermarmi a capire come migliorare il mio processo per cui magari in questa fase di ferma forzata magari qualche riflessione l'abbiamo portata a casa e la riflessione che volevo condividere con noi senza certamente tenere una dissertazione tecnica sul business process engineering che comunque anche a me che lo faccio di lavoro mi sia riconfermato e volevo proporvi questa rilettura quindi quando si può dire che le cose funzionano comunemente si è detto successo quando ovviamente ci sono dei processi che in modo più o meno formalizzato sono rispondenti della risposta dell'azienda ai bisogni dei clienti del mercato o anche esigenze interne quindi tutti sappiamo dobbiamo sapere che cosa stiamo svolgendo perché lo dobbiamo svolgere che cosa c'è prima di noi quindi i nostri fornitori in un ipotetico processo informativo non trasformiamo certamente i materiali ma le informazioni sì i nostri destinatari che sono i clienti riformandamentamente delle informazioni l'organizzazione già ne ha parlato Alfredo ovviamente sì perché è inutile trovarsi con roli duplicati o non sapere bene che cosa si debba fare e avere anche tanta come si può dire indole al miglioramento la curiosità di come si può fare sempre meglio faccio riferimento ai concetti molti del miglioramento continuo avere una tensione positiva verso comunque l'autocritica e il miglioramento dei processi dell'organizzazione oggi probabilmente più di prima o per chi ancora magari si trovava in una condizione di riflessione di scepticismo le tecnologie sono un fattore che potenziano questo funzionamento questo diciamo così tensione verso il successo che la fermata ci ha reso visibile e quindi già pensiamo oggi questa probabilmente il forum il webinar di oggi non l'avremmo tenuto se non ci fossero state le condizioni di emergenza da io e Alfredo in passato abbiamo tenuto diciamo relazioni di questo tipo in altre sedi ma quando anche forse l'avremmo fatto direttamente ci saremmo visti in una sala oggi siamo costretti a farlo da remoto senza la tecnologia sto dicendo una banalità ma probabilmente non è così in tutte le societature di tutti i processi delle aziende questo fa la differenza quindi ci vogliono tutte e tre quindi nello specifico però cosa si intende per processo si intende diciamo una serie di attività che di solito sono svolte in serie con anche un po' di parallelismo da delle persone che hanno riconosciuto una certa competenza che assolvono scopo per esempio il processo di fatturazione ha come obiettivo non come magari comunemente si pensa non è tanto l'emissione della fattura al cliente quanto il pagamento già avere in mente un processo che è banale se volete che è anche stato oggetto di informatizzazione anche da parte dello Stato con la fatturazione elettronica già dire che l'obiettivo del processo di fatturazione è portare a casa un incasso è molto diverso e responsabilizza in modo molto diverso dire che lo stesso processo ha come obiettivo l'emissione di una fattura a cosa serve rimettere una fattura se poi l'incasso non avviene e già chiarire questa cosa in azienda responsabilizza appunto le persone e probabilmente predispone l'organizzazione a istituire anche un'attività nel processo che è quella del sollecito del recupero del credito comunque del monitoraggio di questo passaggio interessante ma ultimo che è il fondamento l'organizzazione cosa si intende? quindi quando il processo è definito si fa di solitamente dopo si vede che chi per competenza per età o per autoregualezza dentro l'organizzazione viene posto in una gerarchia di comando che ne facilita l'evasione facilita l'evasione del processo quindi come organizzazione noi intendiamo fondamentalmente la divisione dei ruoli e la catena di comando come processo sono le attività operative quanto basta quindi anche il processo di definizione della strategia aziendale è un processo ma è molto più estratto che diciamo effettuare una spedizione mettere una fattura e mettere un ordine di acquisto eccetera come business process re-engineer si intende di solito una riprogettazione con l'aggettivo radicale davanti quindi non un miglioramento una variazione minima che quella è bene che ci sia perché comunque le tecnologie progrediscono e la gente fa esperienza e quindi diciamo dovrebbe essere una male amministrazione si fa un DPR quando è necessaria una riprogettazione che ha una certa incisività sulle attività e sulle persone che poi la devono seguire e per lungo tempo anch'io mi sono mi sono diciamo agli inizi della professione interrogato su quali potevano essere i criteri per migliorare un processo posto che per stampare la plastica quella la tecnologia quello del processo la logistica è definita di un conto terzista quindi però com'è che si fa a vedere qual è la direzione da seguire quando si vuole fare un miglioramento di processo i due driver principali sono quelli di efficacia ed efficienza quindi il processo deve comunque servire a un cliente questo è preponderante quindi devi misurare il livello di servizio che sia un processo di vendita vuol dire di un magazzino che vende a stock vuol dire non rimanere mai sotto scorta piuttosto che in un progetto un'attività di service di manutenzione sarà comunque di attivare la risorsa la macchina che si è guastata prima possibile e poi c'è tutto un aspetto di efficienza quindi a parità di obiettivi soddisfatti verso il cliente del processo che molto spesso è il cliente finale ma può essere anche un cliente interno quindi un nostro collega che si aspetta di ricevere certi auto certe informazioni o anche certi oggetti o materiali e quindi quella di riflettere rispetto a quello che è l'obiettivo del processo è la natura dell'attività stessa ad esempio se nel processo di fatturazione l'obiettivo finale è portare all'incasso tutto ciò che le persone svolgono all'interno di questo processo che non porta all'incasso è da considerarsi spreco il processo è quello di consegnare in tre giorni perché l'azienda che distribuisce diciamo anche come slogan come proposition sul mercato ci dà questo target è tutto quello che allunga il tempo di consegna per attività varie per ricerche materiali per quello che vogliamo e quindi che va a intaccare l'obiettivo deve essere considerato spreco questo è un concetto che ha anche una certa età è il concetto degli sprechi dell'inthinking che comunque è ancora valido quindi questo ci aiuta anche nella vita di tutti i giorni quindi anche senza istituire progetti complicati di ripensamento dell'azienda di rifacimento dei processi già anche nei nostri una volta ogni dieci minuti una volta allora riflettere qualche volta durante la giornata se quello che sto facendo serve al mio cliente e se la risposta è sì bene come posso comunque migliorarlo e se la risposta è no posso farne a meno allora non lo faccio più oppure non ne posso fare a meno perché comunque il processo funziona in un certo modo e allora lo vado a minimizzare secondo me è la pillola che do in questa sede per chi già non l'avesse condivisa che ci consente di andare a identificare quali sono i progetti di miglioramento e poi magari danno anche il là a progetti anche lunghi che comportano investimenti come sono quelli di digitalizzazione che sono diciamo gli ultimi anche con l'avvento del 4.0 sono i più più evidenti non tanto magari il processo di miglioramento tecnologico quello che secondo me l'emergenza ha reso evidente che chi aveva digitalizzato in precedenza già aveva i processi orientati a comunque condurre l'attività da remoto chi non l'aveva questa cosa non la poteva svolgere e vi lancio anche qualche riflessione in questo momento mi auguro che poi magari qualche domanda arrivi e ne possiamo discutere se voi pensate anche all'archiviazione documentale informatizzata non è certo una tecnologia recente almeno 20 o 30 anni poi si è voluta e diventata più efficiente però chi di noi ha subito il lockdown e comunque doveva recarsi in ufficio per consultare i documenti ha avuto evidenza qualora ce ne fosse bisogno che se avesse informatizzato un archivio non avrebbe dovuto spostarsi fisicamente tutti abbiamo dovuto o diciamo strutturarci o comunque promuovere strumenti come quello che stiamo usando adesso per mantenere il contatto tra persone interne anche con clienti e fornitori e quindi le piattaforme di remote meeting tra l'altro contrariamente ad altri settori che hanno subito una perdita se ne parlava stamattina in un'altra cola a cui ho partecipato ci sono aziende che sono state quotate hanno avuto anche un beneficio economico perché anche le azioni si sono apprezzate quindi diciamo nella sciagura alcune aziende che facevano questo tipo di attività paradossalmente non ha avuto un beneficio pensiamo ad esempio alla riflessione che ci ha portato a dire si promuoviamo lo smart working perché non possiamo più vederci dobbiamo stare a distanza almeno io questa l'ho fatta poi magari per qualcuno che già lavorava con questo mood magari è una cosa ovvia però pensate alle aziende che normalmente almeno per l'attività d'ufficio perché ovviamente non si può svolgere un assemblaggio da remoto questo è ovvio in un'attività produttiva deve essere svolta in reparto davanti a una macchina davanti a delle attrezzature poi diciamo per tutte le attività che comunque possono essere remotate pensate a un'azienda che da sempre è abituata a pagare le ore delle persone adesso diventa molto più difficile al di là di amare di avere la timbratrice informatizzata dal telefonino geolocalizzata che è anche questa tecnologia che non è nuova però pensate al cambio di mentalità sia per chi lavora che deve dimostrare all'azienda che il lavoro l'ha svolto sia per chi poi lo remunera passare da un pago le ore a sì fammi sapere le ore però gestisci le conflessibilità l'importante che tu raggiungi l'obiettivo e quindi il lavoro per obiettivi non è affatto nuovo però anche questo è una riflessione che voglio fare con voi l'emergenza la distanza forzata ci ha portato a pensare e chi era già strutturato probabilmente non ha fatto questo salto diciamo così mentale o ha dovuto investire chi invece era rimasto diciamo legato più alla tradizione ha dovuto fidarsi perché ci sono messi anche tutti questi comportamenti fraudulenti da parte diciamo dei lavoratori oppure e mi auguro che sia così per la maggioranza il virus ha forzato un imprinting sul lavorare per obiettivi al di là di quante ore uno verse poi comunque vanno a misurare e ci ha anche aperto ad alcune opportunità del tipo abbiamo scoperto che comunque possiamo benissimo fare tante riunioni anche se non ci vediamo per adesso che io lo penso è meglio vedersi però ci ha reso ci ha reso consci che magari qualche riunione che comportava anche un trasporto in automobile magari non era non era qualcosa necessario che avvenisse in questo modo e questo la slide che avete davanti l'ho lasciata apposta è ragionare in questo tipo quindi lo spreco di trasporto è anche canonizzato e la lin si può ridurre a patto di impararsi qualche strumento diventare più smart nella conduzione delle riunioni o degli incontri a distanza un'altra opportunità è quella comunque di diciamo in modo come si può dire indiretto risparmiare di una certa porzione di risorse pensate a chi prima lavorava cioè chi lavora in ufficio il tempo di trasporto alcuni di noi anche due ore al giorno le passano in automobile adesso questo non è più possibile non è più opzionato o non è più opzionato in maniera così forte e questo è tutto il tempo due ore al giorno pensate intanto sono salvate poi la persona le può investire per attività proprie o le può lavorare quindi ha tutto beneficio suo e dell'azienda ma sono comunque due ore risparmiate e questo ho fatto riflettere al di là che magari poi uno in azienda va a spegnere il condizionatore perché tanto non ce ne sono quindi c'è anche un risparmio energetico sotto ma è poco rilevante l'altra opportunità che ci ha che ci ha come evidenziato questa emergenza è la flessibilità di orario ci siamo resi conti che certi lavori perché ovviamente non lo sapeva già prima possono essere condotti con flessibilità di orario quindi non è vero su tutto però magari qualche mese può fare anche la notte e alcuni magari non avevano qualche azienda al pc fisso faccio un esempio banale e quindi la persona non può condurre delle attività come potrebbe essere mandare una mail se non è fisicamente presente adesso se c'era anche qualcuno qualche scettico probabilmente non non avviene più e in ultimo direi che comunque l'incontrarsi a solo sproliferano tutti i vari webinar conferenze check-up gratuiti anche noi le abbiamo fatte le promuoviamo e ci siamo resi conto che prima c'erano probabilità di incontrare domande e offerte quindi per tutti noi indipendentemente dall'azienda ci incontriamo senza incontrarci e questo lo facciamo più spesso anche perché abbiamo più tempo e questo ci fa rendere conto che c'è una possibilità che magari non avevamo pensato di far incontrare la nostra domanda con la nostra offerta una serie di flessioni secondo me ci stavano vado alla conclusione quindi qua è solo un esempio di tecnicality di come si può migliorare un processo quindi va mappato in qualche modo qui avete una sull'inline chart e una volta che è mappato succede una bella cosa dico io è che diventa visibile il processo di solito soprattutto i processi che coinvolgono il personale d'ufficio veramente si vede una macchina che lavora la vedi un'automobile che si accresce durante la linea di assemblaggio questa è una cosa visibile i processi che io chiamo gestionali sono spesso invisibili o magari sono nascosti dentro un programma già esplicitati in alcuni passaggi lì oggettiva e stimola il confronto la comunicazione e uniforma il punto di vista in modo tale che si parte dalla stessa base per poi ci auguriamo constatare gli stessi problemi sviscerarli oggettivarli e probabilmente andare nella stessa direzione in modo armonico e condiviso verso la loro soluzione e volevo chiudere con un esempio che anche qua potrà sembrarvi banale ma per a riprova del fatto che la tecnologia comunque ci potenzia il processo quindi non è un fattore abilitante qualche volta cambia la qualità e il risultato dell'attività quindi per fare un esempio non aziendale qualcosa che conosciamo tutti pensate diciamo il processo che ha l'obiettivo di fare la spesa quindi tendere al supermercato a prendere degli approvvigionamenti per casa questo la dico in modo con toni alti però la spesa la conosciamo tutti quindi il processo di approvvigionamento domestico se portato avanti con supporto cartaceo non ha le stesse diciamo caratteristiche di efficacia perché magari chi ha la lista questa è anche esperienza vissuta da quando poi mi sono trovato anch'io sono passati degli anni prima ci pensavo ci pensavo nei genitori poi diventi tu genitore ci pensi tu è un'azienda chiamata a casa che devi portare avanti quasi come un'azienda anche con il bilancio familiare però tante volte vai al supermercato e se sei stato un igio il biglietto l'hai fatto se te lo dimentichi non ce l'hai oppure non hai il biglietto sotto mano quando finisce un articolo è finito l'olio ho finito qualche cosa l'importante è che questo diciamo ritorno nella scuola aziendale nel momento in cui il fabbisogno si manifesta e viene tenendo le tracce per poi governare un acquisto quindi pensate passare alla mia esperienza il telefonino probabilmente io non me lo dimentico quando vado al supermercato e se sono bravo e avere diciamo la lista della spesa informatizzata sul telefonino che è sempre in tasca anche quando non sono dove ho il post per scrivere la spesa mi consente di registrare un fabbisogno nel momento in cui si verifica quindi che impatto ha questo sul processo di acquisto che ha l'obiettivo di di approvvigionare i materiali che ci vogliono e probabilmente non ti dimentichi nulla e tieni sotto controllo le scorte quindi questo è anche diciamo abbastanza immediato trasportare questa cosa nell'azienda ma in azienda ovviamente ci sono gli RP i sistemi gestionali che già lo fanno egregiamente con una dimensione adeguata diciamo per noi anche a casa nel nostro piccolo passare a qualcosa di informatizzato ti cambia la vita e se ci pensate bene il processo è comunque uguale come passaggio intercetto fa bisogno lo registro e lo soddisfo me ho tentato di soddisfarlo in tempo utile che opera dentro cui finisce la scorta diciamo così il rimandello qual è? è avere voglia di farlo avere appunto questa indola al miglioramento e non essere diciamo frenati dal dover imparare un'applicazione nuova esplorare una tecnologia nuova o il costo al di là della spesa gratuita e quindi diciamo essere aperti al cambiamento per appunto come diceva Alfredo prima guardare al futuro l'emergenza appunto avendo creato queste condizioni appunto di emergenza ha reso note ha reso più evidenti è anche stressato e anche con effetti negativi ciò che comunque già si vedeva prima quindi cogliamo questa opportunità di questa crisi per comunque farne tesoro senza sprecare citazioni però ce ne sono dalle crisi probabilmente sono venute tutte le principali innovazioni di cui beneficiamo anche adesso io avrei concluso spero di c'è stato il controllo condivido lo schermo e ti rilascio la parola Alfredo su domande vedo che non ne sono arrivate probabilmente arriveranno dopo grazie grazie Andrea allora vediamo perfetto allora beh grazie Andrea io volevo spendere appunto due parole rispetto alla mia figura io di solito preferisco partire subito con gli argomenti e poi quando si arriva al punto della ricapitolazione andare un pochettino nello specifico io mi chiamo al punto Alfredo Rabaiotti e da vent'anni mi occupo di organizzazione di impresa dal punto di vista del marketing strategico e della gestione dei processi e delle relazioni in quella dinamica olestica che dicevo negli ultimi tre anni in collaborazione con CSMT abbiamo condotto circa un centinaio di odita all'interno delle aziende bresciane dove sono emersi tutta una serie di esigenze che hanno permesso anche di avvalorare tutte le dinamiche le teorie che sia dal punto di vista relazionale l'operativo Andrea appunto operativo che Andrea ha elencato ma anche tutti gli aspetti relazionali e di gestione di quelli che sono processi che prima ancora di essere processi di carattere tecnico devono essere processi di carattere umano detto questo quali sono i pilastri dell'efficienza i pilastri dell'efficienza sono fondamentalmente quattro dove si parta dall'ascolto quindi saper porre la giusta attenzione intelletto a tutto ciò che avviene intorno a noi sviluppando comprensione delle dinamiche cause-effetto quindi che cosa succede che effettivamente l'abbiamo visto nella prima slide che ci ha proposto Andrea cioè spesso non ci rendiamo conto che la soluzione ce l'abbiamo sotto gli occhi perché non ascoltiamo non ascoltiamo non vuol dire solo non ascoltiamo il nostro il nostro operatore il nostro compagno ma non ascoltiamo nel senso che non ci fermiamo a guardare che cosa a tutti gli effetti sta accadendo e perché sta accadendo quindi condizione cause-effetto quindi comunicazione sviluppare una forma di comunicazione chiara e pragmatica codificata all'interno del contesto operativo quindi che cosa significa noi questo lo viviamo negativamente per esempio con le email per esempio le email sono secondo me il il male contemporaneo ma perché perché esempio banale vi sarete trovati magari in una situazione come questa più volte state gestendo tre attività tre clienti di questi tre clienti ognuno ha due attività lo scambio parte viene sviluppato tramite email tutte le volte che mi arrivo un email devo vedere di che cosa sta parlando se effettivamente devo coinvolgere qualcun altro perché magari in quell'attività non sono coinvolto solo io non sono ingaggiato solo io pensate a qualsiasi tipo di relazione che può essere una relazione tecnica dove magari però anche il commerciale deve poter essere ingaggiato quindi che cosa succede che statisticamente noi perdiamo si può dire da un'ora a tre ore dopo dipende dalla posizione che ricopriamo in azienda solamente di coordinamento dei messaggi mail quindi provate a immaginarvi questo nel momento e poi naturalmente tutto viene coadiuvato da cosa dalla relazione diretta quindi questo perché perché quello che è interessante e divertente un check immediato un test immediato per capire quanto la vostra realtà è evoluta da un punto di vista di processi in proporzione a quante email scorrono nel flusso quotidiano di attività cioè meno comunicazioni email ci sono vuol dire più quelle comunicazioni sono pragmatiche e più tutto il resto viene ovviamente gestito con altri strumenti fatti per fare cosa per gestire il flusso di commessa quindi comunicazione organizzazione quindi organizzazione vuol dire non solo la struttura ma una una forma organizzativa interna come dicevamo ci leghiamo molto a quegli aspetti di valore che abbiamo visto prima che valorizzi la professionalità e le aspirazioni di ogni membro dello staff a me capita spesso di lavorare all'interno di processi di organizzazione dove ho titolari di impresa o manager che dicono questa persona non vedo l'ora di mandarla fuori iniziamo a lavorare e ci rendiamo conto di una cosa che quella persona è frustrata adesso vi dico anche uno di questi ultimi casi molto interessante persona problematiche per tutta una serie di motivi non particolarmente estroversa il problema fondamentale che non è che questa persona voleva il male dell'azienda ma semplicemente la sua figura all'interno dell'organizzazione era assolutamente sottovalutata e in più questo l'aveva già fatto notare più volte era stato messo a fare delle attività che non erano neanche che il motivo per cui era stato assunto col passare del tempo poi questa situazione si è aggravata al punto tale che giustamente lui ha detto vabbè il lavoro mi serve non posso vado avanti però potete immaginarvi in questo caso il doppio danno uno che abbiamo una persona fortemente demotivata che ovviamente a livello relazionale e funzionale per quello che è l'organizzazione non va assolutamente bene dall'altra parte che cosa abbiamo abbiamo una persona che ha delle doti che in quel momento non vengono sviluppate per una carenza di carattere organizzativo ultimo punto lei la riprendo è la responsabilità quindi condividere le responsabilità tra il team così da ripartire la pressione in modo funzionale più sicuro questo che cosa significa e questo adesso parleremo poi dello strumento e del metodo che noi abbiamo creato per poter coadiuvare e quindi sviluppare tutti questi quattro pilastri all'interno di un unico contesto organizzativo e di modalità che abbraccia molto quello che ha detto Andrea ma anche perché posso dire che in un certo senso l'abbiamo anche condiviso e costruito insieme se io parto dal presupposto che la responsabilità come dicevo prima è centralizzata su un'unica persona quella persona ha un carico una pressione altissima ma diventa anche un problema un rischio per l'azienda perché se mi manca quella persona l'azienda poi ha tutti gli effetti o è ferma o quasi questo penso che sia una dinamica che vedete spesso per esempio una parte importante del nostro metodo è andare a ridefinire gli equilibri di responsabilità che cosa significa che se io ho un flusso che coinvolge cinque persone ognuna di queste cinque persone avrà dei compiti specifici e poter per poter svolgere svolgere quei compiti specifici dovrà chiedere a chi viene prima di lui determinate informazioni oppure materiali strumenti e quant'altro se io creo una logica di processo dove ogni singolo punto di azione si rivolge a chi viene prima in termine responsabile quindi ho bisogno di questo questo e quest'altro che cosa succede non solo le persone vengono ingaggiate maggiormente ma avviene anche un altro fattore che non ho più le persone che vengono colpite da una sovra responsabilità e questo sicuramente ha un vantaggio non indifferente allora noi abbiamo sviluppato un metodo è un prodotto che si chiama Smartop è alla terza edizione e tra poco sarà anche alla quarta dove fondamentalmente all'interno di questo strumento è possibile tenere traccia di tutta la comunicazione adesso per questioni di tempo non abbiamo non abbiamo il tempo di vederlo nello specifico anche perché ci sono altre cose da dire e poi i tempi il tempo come si dice tiranno però l'invito è quello di approfondirlo magari anche in vostra sede o comunque con un incontro dedicato allora fondamentalmente noi abbiamo uno strumento che permette di creare per ogni singola attività un suo dossier da un punto di vista di comunicazione di tracciabilità di scambi di informazioni e di file quindi che cosa significa che io ho un contesto unico cioè il famoso discorso che dicevo prima cioè tre clienti due pratiche per ogni cliente quando un cliente mi risponde a una determinata domanda che ha che fare con quel cliente quella determinata pratica questo metodo e questo strumento permette di mettere quella risposta esattamente nel contesto giusto e attirare l'attenzione solo quindi coinvolgere solo chi è realmente coinvolto all'interno di quell'attività provate solo a pensare questo che cosa significa garantire ordine organizzazione fluss di commessa perché io qua disegno quello che Andrea prima ha fatto vedere proprio vado a disegnare i processi e chi fa cosa diventa un'assistenza per trasferire un piano di lavoro con le giuste priorità quindi io avrò delle scadenze che sono in funzione delle reali priorità che vengono definite da chi dai piani alti ovviamente gestisco tutta la comunicazione se all'interno uso lo strumento fuori utilizzano l'email poi posso utilizzarlo anche come strumento per consultivare il lavoro ed è ovviamente gestibile totalmente all'interno dello staff ma facciamo un esempio pratico allora questo è un nostro cliente questo nostro cliente si occupa di revamping di macchine utensili dove abbiamo una divisione di assistenza e una divisione invece tecnica di sviluppo e fornitura macchine utensili allora innanzitutto qua come ha impattato il covid su questa azienda allora ovviamente tutte le assistenze esterne sono bloccate però che cosa succedeva succedeva e c'era la necessità di portare avanti un lavoro d'ufficio da un punto di vista di organizzazione circa 20 giorni prima dalla riapertura hanno iniziato a ripianificare tutte le attività operative funzionali io vi posso dire che gli operatori che sono stati coinvolti all'interno di questa attività hanno lavorato da casa con le stesse identiche logiche in cui lavoravano in ufficio perché perché se io ho i processi ben strutturati le logiche di responsabilità ben definite a questo punto io non ho nessun tipo di impatto tanto è vero che l'operatività non ha risentito per niente del lavoro a distanza perché la comunicazione tra operatori andava avanti né più né meno tutte le informazioni sono divise per contesto quindi essendo divise per contesto tutto quello che serviva agli operatori non era in ufficio ma erano in questo contesto stiamo parlando ovviamente di un ambiente cloud ogni informazione file è contestualizzato nel dossier quindi via tutte le mail interne non si usano più mail interne perché ho i dossier e ovviamente potete immaginarvi questo che cosa comporta da un punto di vista di risparmio di tempo quando parliamo da stress working a smart working significa veramente contingentare il nostro tempo in maniera efficace detto questo poi posso dire che ci sono tantissimi altri casi documentati ma la cosa secondo me più importante è questa allora sempre in collaborazione col csmt noi come dicevo da tre anni abbiamo portato e stiamo portando avanti questo percorso di di ottimizzazione non solo di processi ma anche di relazioni di per consentire all'impresa di ottenere ciò che merita ovvio che in questo momento con quello che sta accadendo abbiamo evoluto quello che è la proposta noi l'abbiamo chiamata come become impresa resiliente che è appunto un'accordata tra le nostre attività e quelle del csmt dove innanzitutto iniziamo ad entrare l'obiettivo è fare un un audit un meeting all'interno della vostra organizzazione che può essere fatto tranquillamente anche tramite web meeting dove si va ad analizzare quello che oggi state facendo come lo state facendo e da lì restituirvi quello che può essere una visione totalmente una visione precisa di quelle che possono essere le opportunità in termini di digitalizzazione di processi le cose che abbiamo visto oggi però che siano funzionali per quanto riguarda la vostra organizzazione questo è e con questo ho chiuso e lascio spazio ovviamente a domande risposte ok mi magari approfitterei Licia sei con noi sì certo eccola qui ecco dicevo appunto lascerei spazio a domande risposte magari anche non necessariamente con la chat se qualcuno vuole intervenire anche col microfono rispetto agli argomenti che abbiamo avuto modo di vedere qui Andrea o è tutto troppo chiaro o non siamo stati chiari per niente sì mi sto grattando il mento non si vede ma c'è no mi piacerebbe magari il problema è che rompe il ghiaccio perché c'è anche questo serve qualcuno che rompe il ghiaccio rispetto ecco ricordiamo che vedo che qualcuno sta abbandonando c'è ancora un intervento di Anna Frascarolo legato al al bando smart working quindi magari se parliamo di finanziamenti poi si sbloccano di come avere magari dei fondi per fare degli investimenti in azienda bene 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 magari se si vuole parlare di quello nel frattempo magari chi vuole chi vuole fare gli interventi scusate romperei il ghiaccio spero solo quello io sono l'amministratore di una società che fa robotica e siamo stati fermi per parecchio tempo ci siamo in fretta e furia adoperati barra allineati alla necessità di fare smart working devo dire in fretta e furia nel senso lo si doveva fare e lo abbiamo fatto è stata l'opportunità per apprezzarne i pregi e per certi aspetti i difetti ora io volevo portarvi una testimonianza che è proprio fresca perché è di stamane parlando con un collega e gli ho chiesto l'utilità dello smart working se l'ha trovato utile o se non l'ha trovato utile la sua testimonianza in realtà mi ha fatto pensare a quanto sia vecchio il modo di pensare di tanti colleghi che probabilmente sono fermi al classico 8, 12 14 18 faccio le mie 8 ore ho finito devo essere necessariamente sul posto di lavoro perché cascasse il mondo se non sono lì quindi la considerazione che voglio portare è questa cioè il fatto che in alcune situazioni probabilmente l'ostacolo o un ostacolo diventa proprio questo legame alle vecchie abitudini o alle vecchie consuetudini o alle vecchie regole volevo capire magari da voi che avete sicuramente più esperienza in tal senso se è una cosa che rilevate normalmente e quale può essere diciamo così la via o lo strumento per riuscire a bypassare questo ostacolo perché personalmente io ritengo che lo smart working sia molto utile quantomeno per il nostro tipo di attività perché poi probabilmente dipende anche dalla tipologia di lavoro però ecco temo che uno degli scogli potrebbe essere proprio la mentalità la vecchia la mentalità vecchia grazie rispondi tu io rispondiamo insieme rispondiamo insieme secondo me inizio io il punto centrato appunto la questione mentalità bisogna aver voglia di che comunque si può dire l'abitudine è un lupo che non vuole perdere nel pelo nel vizio perché comunque ci dà sicurezza quindi mollare un modo di fare che è sempre andato bene con magari anche delle dei uno storico di molti anni che dà un riscontro oggettivo è una 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 bruttia nel senso che ho sempre fatto così e perché devo cambiare io lo vedo diciamo nell'ambito dei progetti digitali quando si parla di cloud o di condivisione dei file no ma l'imprenditore dice o responsabile no ma io i miei dati li voglio dentro la mia azienda perché non si sa mai chi li possa spiare il know how eccetera eccetera e poi quando magari faccio io il paragone con diciamo come si può dire i soldi in banca sono più sicuri nel materasso i tuoi soldi o in banca che ha tutte le misure di sicurezza quindi magari uno pensa positivamente a conservare i propri dati e non pensa che di non essere magari l'azienda migliore del mondo a poterli conservare e preservare questo per non volerli delegare non volerli diciamo così concedere all'esterno quindi quando fai l'esempio della banca noi in effetti sì io ho l'antiforto ma la banca ha il cabello poi tutto virtualizzato eccetera e quindi non è che ho la ricetta per dire come si fa a far cambiare il pensiero alle persone questa è ancora un'arte forse più diciamo della sfera di chi ha diciamo un'indole commerciale anche senza partecipare all'evento diciamo chi ha l'arte del convincimento sicuramente è un modo promuovere la contaminazione quello che facciamo noi in CSMT anche con eventi come questo che sono mari momenti brevi ma di confronto quindi non è perché lo diciamo io Alfredo che è vero ma possiamo suggerirvi se le conoscete voi mettetevi in contatto quindi fate parlare la persona che non è convinta restia con qualcuno che ha già fatto il passo e allora visto che un terzo sicuramente non ha secondi fini di vendita o comunque diciamo economici quindi chi ne amicizia questo lo si può fare noi lo facciamo con visita aziendale devo mettere un sistema MES ma costa un sacco di euro non so i vantaggi i vantaggi sono latenti non sono tangibili ecco vai da uno che ce l'ha da dieci anni che ci ha costruito anche un sistema premiante per cui rilevo i dati dalle macchine le persone non lo sentono più il sindacato è a posto perché con il sindacato è stato fatto un accordo il processo è chiaro a tutti è trasparente le persone vengono premiate perché rispettano degli standard quindi dall'imprenditore a tutti gli operativi sono contenti di l'opera di informatizzazione io rispetto sì allora io assolutamente spezzo una lancia in favore agli imprenditori che in questo momento sono resti al cambiamento in che senso che questi 15 anni di attività all'interno delle imprese mi hanno messo in relazione con tantissimi imprenditori che sono stati disillusi dalla tecnologia ma perché perché ci sono state sono state fatte delle azioni di acquisto software o meglio delle vendite su software che promettevano Mari e Monti e poi alla fine il risultato è che hanno continuato a lavorare con i fogli Excel allora per rispondere a ciò che diceva appunto Conforti che ringrazio per la domanda molto intelligente è proprio il concetto che l'atteggiamento che poi l'atteggiamento che diceva Andrea deve essere fondamentale l'atteggiamento è entrare in azienda fare un'analisi capire bene che cosa serve all'azienda da un punto di vista di gestione di strumenti processi e quant'altro sempre per stare sui quattro pilastri e sugli aspetti pragmatici della vera organizzazione perché se io rimango lì e provo all'imprenditore che quello che stiamo facendo va in quella direzione a quel punto lì io vi posso dire non ho mai trovato un ostacolo perché? perché le risposte che devono arrivare non devono essere delle risposte tra virgolette fantasiose o delle promesse ma devono essere dei fatti e dei numeri ben chiari ecco questo è ecco lì Licia se siamo un po' sui tempi esatto passerei la parola ad Anna Trascarolo dell'area Project Funding per fornirci appunto informazioni sul bando camerale dedicato allo smart working ti condivido lo schermo passo la condivisione dello schermo ok lo vedete? sì se puoi allargarla a schermo intero così perfetto è sempre il solito problema schermo per la verità però non cambia niente mi sono premunita di farlo questa volta e questo mi si è acceso anche il secondo schermo anche per la disattiva vedete o i tre problemi? no no leggiamo leggiamo si vede si vede perfetto come come anticipato volevo brevemente presentare due strumenti di finanziamento che hanno due obiettivi un pochino diversi perché uno va a finanziare con dei contributi non particolarmente alti ma interessanti l'adozione di piani di smart working e investimenti in strumenti digitali a supporto dello smart working e invece un altro bando va a finanziare lo sviluppo di soluzioni innovative che possono al fine di di commercializzare nuovi servizi anche per lo smart working tra i diversi obiettivi parto dal dal primo bando che è quello promosso dalla camera di commercio di Brescia che ha appunto tra gli obiettivi quello di promuovere l'utilizzo dello smart working e la diffusione delle tecnologie digitali sono ammissibili a questo contributo le micro e le piccole e medie imprese bresciane quindi devono avere la sede nella nella provincia di Brescia e va a coprire parte delle spese effettuate per gli investimenti fatti nell'anno 2020 il bando va a coprire diversi tipi di investimenti diversi tipi di progetti il primo relativo alla misura 1 va proprio a finanziare servizi di consulenza e formazione finalizzati all'adozione di un piano di smart working e anche l'acquisto di strumenti tecnologici per l'attuazione del piano di smart working la seconda misura va a finanziare gli investimenti di innovazione in ambito digitale quindi consulenza formazione attrezzature tecnologiche per progetti di digitalizzazione dell'impresa legate quindi alle tecnologie 4.0 cito anche le altre misure anche se meno di interesse per questo per questo incontro comunque va anche a finanziare attività di web marketing tecnologie per la sicurezza e anche misure per la riduzione dei consumi energetici e l'impatto ambientale per quanto riguarda in particolare i servizi i progetti di digitalizzazione delle imprese le attività di consulenza e formazione devono essere erogate da dei fornitori qualificati fornitori qualificati che come vedete comprendono i digital innovation hub i centri di ricerca e trasferimento tecnologico i competence center i fab lab e altre tipologie per cui ad esempio CSMT rientra tra le categorie di fornitori qualificati per l'erogazione di questi servizi in cosa consiste il contributo il contributo consiste nel 50% del costo sostenuto però c'è un massimale che come vedete non è altissimo per cui a seconda delle misure si varia dai 5.000 a massimo 10.000 euro di contributo da parte della camera di commercio a fronte di una spesa minima ammissibile di 1.000 euro le domande dovranno essere presentate fino alla fine di dicembre la finestra è ampia perché la domanda va fatta dopo che l'investimento è già stato effettuato quindi a fronte di fatture già quietanzate però questo è un po' il limite del bando poi le domande verranno valutate in ordine cronologico di presentazione quindi insomma sono premiati di fatto gli investimenti più rapidi come anticipavo questo è uno strumento piccolo dedicato a coprire parte dei costi che possono servire per l'implementazione dello smart working aziendale per quanto riguarda l'altro bando di cui facevo cenno prima è un bando promosso questa volta da Union Camera e Lombardia che ha fra gli obiettivi proprio quello di sviluppare soluzioni prodotti servizi innovativi focalizzati alle tecnologie digitali però in particolare si parla anche di stimolare il trasferimento di soluzioni e innovazione che favoriscono logiche di filiere produttive o di smart working in questo caso lo cito tra gli obiettivi del bando c'è anche quello di favorire lo sviluppo di soluzioni digitali risposta all'emergenza copica quindi nella valutazione dei progetti che verranno presentati che questa volta hanno proprio come criterio una valutazione a punteggio quindi saranno premiati i progetti che vengono valutati i migliori sono attribuiti dei punti di merito a progetti che tengono conto dello smart working e sia finalizzati allo smart working e alla risposta all'emergenza covid possono partecipare micro piccole e medie imprese che abbiano però già al loro interno anche delle competenze di sviluppo di tecnologie digitali perché ricordo qui l'obiettivo è lo sviluppo di soluzioni innovative non acquistare tecnologie innovative le imprese devono avere la sede operativa in Lombardia e gli interventi ammissibili sono quelli di sperimentazione e prototipazione e messa sul mercato di soluzioni applicazioni prodotti servizi innovativi impresa 4.0 quindi devono utilizzare una delle tecnologie 4.0 devono riguardare una di queste tecnologie e però come dicevo all'inizio punti di merito per soluzioni rivolte allo small working in questo caso il contributo che è sempre pari al 50% dei costi ammessibili però è rivolto a progetti di una portata diversa infatti l'investimento minimo richiesto di 40.000 euro e il contributo massimo è di 50.000 euro che quindi viene dato per dei progetti che ammontano a 100.000 euro di spese i costi ammessibili sono quelle di consulenza che anche in questo caso deve essere erogata da fornitori qualificati dei servizi non vi faccio vedere la lista la trovate nelle slide ma è equivalente a quella dell'altro bando la formazione gli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici i servizi e le tecnologie per l'ingegnerizzazione di software e hardware le spese per la tutela della proprietà industriale e in questo caso vengono coperte anche alcune spese di personale interno all'azienda per un spese di personale sono riconosciute per una quota pari al 30% della summa degli altri costi quindi non sono cipre eccessive però viene riconosciuto anche anche il personale in coerenza con la richiesta fatta dal bando che l'azienda l'impresa che presenta il progetto abbia proprio interno delle competenze apte a sviluppare il progetto progettori qualificati ne abbiamo già parlato questo bando scade il 30 giugno del 2020 va a coprire costi che sono stati sostenuti in modo retrattivo dal 2 marzo 2020 fino al 31 luglio del 2021 che deve essere la data termine dei progetti come anticipavo il contributo è concesso con una procedura valutativa quindi non conta l'ordine cronologico di presentazione delle domande conta invece presentare un progetto che sia interessante innovativo e competitivo il procedimento di approvazione terminerà entro settembre quindi a settembre si saprà quali progetti sono stati ammessi al contributo io in realtà ho finito ovviamente a disposizione anch'io per eventuali domande mi viene una domanda da fare ad Alfredo e ad Andrea più o meno magari diamo qualche indicazione sulle tempistiche quindi quanto tempo ci vuole per terminare implementare un progetto di digitalizzazione dei processi in azienda secondo un po' quello che avete fatto fino ad ora dai vai prima tu Alfredo vai spesso il microfono disattivato allora beh in termini pratici il metodo che io che di solito seguo è partire da quei processi che oggi sono magari più critici quindi allora se pensiamo a un processo a un progetto di implementazione dei processi in termini generali si parla ovviamente può essere un lavoro di mesi di anni dall'altra parte la metodologia che noi oggi stiamo portando è una metodologia molto snella che permette di partire dalle criticità iniziare a lavorare lì anche godere delle logiche degli strumenti e anche fare quel famoso click mentale che permette anche di motivare poi tutto lo staff a continuare questo processo però partiamo dalle criticità quindi indicativamente si può dire che i primi risultati possono avvenire anche nei primi tre mesi di operatività Andrea sì esatto secondo me non è una cosa banale salvo che sia molto circoscritta direi che in qualche mese complice anche la metodologia quindi diciamo un processo che serve che noi abbiamo maturato negli anni e collaudato finalizza all'ultimile che mi sembra un'autologia un processo che migliora i processi in realtà è così e quindi si va subito a rifinire con un'analisi di qualche giornata le priorità aziendali quindi salvo che magari ci siano in auge di cambiamenti non so sta capitando proprio in questi mesi poi il lockdown ha un po' raffreddato tutto un'azienda che vuole aprire un nuovo stabilimento vicino a Brescia allora allora è una cosa un po' diversa però diciamo se si la fluidificazione dei processi quindi con anche l'ausilio di un software di workflow management è qualcosa che sicuramente nell'anno deve essere portato a termine quindi da pochi mesi a un anno ci siamo magari non so se chi ha fatto la domanda poteva intendere anche questo ma ne faccio Gigi Marzullo me la faccio da sola mi do una risposta sicuramente strumenti come quelli che ha definito Anna aumentano anche il tempo di rientro dell'investimento perché è vero che magari in otto mesi in sei otto mesi digitalizzo la campagna dei processi aziendali quindi i benefici si vedono dall'otto mese più un giorno in avanti l'utilizzo di strumenti e in quota parte col fondo perduto che finanza un'attività come la nostra CSMT e diciamo le abilitazioni quasi tutte necessarie comunque diciamo quella più più nota è il centro di trasferimento tecnologico 4.0 riconosciuto anche da un'on camera quindi aumenta diciamo non diminuisce il tempo tecnico di esecuzione del progetto però sicuramente diminuisce il tempo di payback di rientro dell'investimento per cui da lì quando come un certo punto di payback da lì in avanti l'azienda si tiene in tasca gli euro derivanti dall'esparmio di tempo dalle risparmio risorse che derivano dal progetto che abbiamo fatto ecco se mi permetti giusto per fare un esempio pratico avevo portato il caso di Ramazzini e Gidio un grosso un problema grosso che loro avevano era tutto l'incoming di tutte le assistenze perché che impegnava tre persone tra raccolta analisi delle esigenze e quant'altro abbiamo digitalizzato il processo oggi dopo adesso sono due anni che c'è una persona dedicata a queste attività la quale grazie allo sviluppo di una serie di processi ben definiti automaticamente rilancia le attività e gestisce anche contemporaneamente la comunicazione del cliente con conferme e quant'altro quindi tempo di operatività tre mesi tempo di ottimizzazione altri tre però già in tre mesi avevano calato tipo il sessanta per cento del carico in termine di pressione utente interno per gestire queste attività bene ci sono altre domande tutto chiaro vi ricondivido magari il questionario che riceverete anche via mail nella chat grazie